Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. Oggi proviamo insieme Space Bade Startopia e ringrazio moltissimo lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco. Prima di dirvi qualunque altra cosa ragazzi, questo gioco che proveremo ora è una versione beta, quindi incompleta, quindi ancora provvisoria, quindi tenetene conto mentre guardate il gioco. Comunque di che cosa si tratta? Si tratta di un gioco di gestione di una stazione spaziale. Sostanzialmente, e però sembrerebbe essere molto cartunoso, molto scansonato, insomma esattamente il genere di gestionale che preferisco, di fatto. Quindi, detto questo, andiamolo a provare, ok? Abbiamo... Ah, c'è il tutorial, perfetto. Costruzione, vai. Allora, benvenuto alle basi di Startopia... Ah, vabbè. Ok... Oh, che strano modo! Mio Dio, mi fa venire il mal di mare. Ok, questi sono i lavoratori. Mio Dio, mi fa venire il mal di mare. Station, per questi robottini. Oh, ragazzi, mi fa venire un po' il mal di mare questa cosa, devo dire. Eh, però, vabbè, insomma. Stanze, Energy Core... Ah, questo è il fietto degli alieni, le stanze, Communication Center, Berth... Ok... Ma, Charging Station... Commander, I see you're having trouble locating the crate and opening its detailed view. I would like to remind you that the consumption of alcoholic beverages at RFS is only allowed after 1400 standard time. Now, please open the detailed view of the crate. Detailed view of the crate. Tanto c'è questo... C'è questa freccia che non capisco dove punti. Ah, eccolo, ok. Commander, you can also pick up several objects at once. Just give it a try. To drop an object from the matter storage, please mark that object in the matter storage and then use your input device to drop it at the position your virtual marker is pointing to. Beh... Excellent, Commander. You have now learned how to use the matter storage. You could almost replace a fuzzy now. Ok, quindi... Dove lo devo piazzare? Commander, I see you're having trouble locating the crate and opening its detailed view. I would like to remind you that the consumption of alcoholic beverages at RFS is only allowed to do. only allowed after 1400 standard time. Now, please open the detailed view of the crate. Charging station in a crate. Dov'è la detailed view? Io ho cercato di seguire tutto quanto, però... Overlays... No. Questa... Ah, vai, questi sono i vari lotti della stazione. È zitta, sì, ho capito. Sì, ho capito. Oh, finalmente. Il tasso destro. Ok. Ah, ok. Eh... Piazziamolo. Fuzzy charging station. Place the hologram in the place you have designated and confirm the construction order for your fuzzies. To save you any... Good work, the matter. Your fuzzies will now begin to set up the fuzzy charging station. Ok. Stanno partendo. Si può velocizzare? Mmm. No, ci vorrà un po'. Qua è pieno di alieni, ma mi sa che è una sorta di... Boh. Non riesco a capire bene la natura di questa stazione spaziale. Ok. Ok. Ok, l'energia è il denaro, praticamente. Ok, ogni stanza consuma un certo numero... Cioè, un certo tot di energia. Ok. 500. Fuzzy charging station is unsuitable for this, as only a few aliens will enjoy a strong electric shock. Please open your base simulator's construction menu. Ok. Berth. Commander, in addition to dedicated rooms, such as the fuzzy charging station, there are variable rooms which can vary in size, such as the berth. For this room, first select the floor area that the room has to occupy. Please note the minimum and maximum permitted sizes. To relieve your limited synaptic capacity, the room is shown in blue, if it fits in terms of dimensions. Ok, piazziamo questo. Facciamo la porta. Sleeping pod. Hydroclean. Quindi, facciamola più grande. Ok. Piazziamoci queste varie cose. Dormire, igiene, cibo. E un altro tipo di cibo. Ok, confermiamo. Ok, questi vanno a costruire. Ok. Oh, ok. C'è un sacco di gente che va qui a fare qualcosa adesso. Divo a prendere del cibo. Madonna che coda. Allora. Ricerca il... Ah, Communication Center. Communication Center. Questo è il pannello di ricerca. Ok. 10 pp. Boh, non so. Ah, Prestige Point. Ok. Ok. Communication Center. Ok. Ah. Questo è estremamente uscito per alertervi a varianti eventi che puoi usare a vostra avanti. Ora, per favore, build the Communication Center. Communication Center. Ok. Ah. Facciamo questo? Vai. Adesso vanno i robot tazzi a costruirlo. Ok, perfetto. Amici, sto un po' abituando. Ancora c'è un po' di mal di mare, però. Alien Overview. Ok. Come faccia? Ah, ok, bug, ok Eccoli qua Va bene, prendiamo questo Ok, d'accordo E ora? Ma intanto questi alieni sono tutti in questa stanza A fare cose Oh mio dio Quanta spazzatura Che si fa qui? Vabbè, allora Ho assunto questo Era quello No, mi sa che è uno degli ospiti Vabbè, ok, è qui E che cosa stanno facendo questi qua? Ah, ok Beh, ha fatto presto Vabbè, nel punto sono i visitatori alieni D'accordo Prossima missione Ok Non devo farli morire Ah Ok Dipende per il culo tantissimo Vabbè, nella base sono i visitatori Ah, ok Ok Non sembrano molto soddisfatti Ah, questi sono i social media Allora Allora Atmosphere filters Eccoli qua Allora Oh Oh Non faccio in tempo a tradurvi ragazzi ma Va bene allora E adesso come La qualità Ok food facilities Chocolate bar machine Beh vabbè ce ne sono Ah vedi stanno andando a costruirla credo Perché non l'hanno ancora costruito Questo Ah no sta andando adesso Ma che ci stanno mettendo un'eternità Sant'iddio Ok I stand Aspetta Fun deck Uh Ah E' la zona divertimenti Ed è separata Bisogna farli divertire Apri il bulkhead Qua Ah ok Ah grande Ad essere connesso alla griglia Dell'energia Celebraimer Lavorano nella discoteca D'accordo E Come gliela devo dare l'energia Allora Ah eccolo Ah eccolo Allora oggetti Energy distributor Boh Diciamo tipo qui Proviamo Oppure qui Boh D'accordo Proviamo Intanto Gottmoriani Questo Ok Dissebutore di energia Che cos'è questo? Ah Sleeping pod hotel Ah perfetto Ok Ok Quindi prende Energia diretta D'accordo D'accordo Beh è particolare Ah ok Le piante Che producono Risorse E i bisogni Di natura Ok Uh Ok Cargo hold Deve essere questo D'accordo Ok, perfetto Ah, spoiled goods Questo è rovinato Allora, adesso Andiamo qua Biodeck Wow Posso cogliere le piante Che stanno crescendo in diversi biomi Ok, quindi correlazione con l'ossigeno che producono Ok, infatti qua c'è un crit di ossigeno Allora, vediamo Harvest plant Proviamo Ah Che simpatica Ah, le driadi Ok Dryad Ok Uno Due E tre Ti piglia per il culo tantissimo Terraforming view Eccolo qui Ok 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 Ogni bioma produce delle piante che producono delle cose diverse Ah Ok Ogni bioma corrisponde a una terra natale degli alieni Vengono qua A Passare un po' di tempo nella natura Eccolo qui Ok 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 e quindi ah finito il tutorial lanciare una campagna ok ok devo trattare l'immondizio che gioia ok ok quindi allora le cose che dovevo costruire sono sì una charging station per i fuzzers immagino di doverla fare tipo che ne so al centro boh ah di solito si gira con R potrei pensare di farne due ok ok reciting station oh ok poi berth berth ecco Ok, proviamo È cattivissimo Non me ne fa passare una Ok, facciamo così Proviamo a vedere se basta Conferma E ho poca energia però Allora, posso assumere Questo ha bisogno di I Telgor, giusto? Beh, io Ok Andate a lavorare qui Ma vediamo se ci vanno Ok, questi stanno costruendo Stanno facendo tutto Poi, Communication Center Riceve le trasmissioni Dallo spazio Stanno facendo Bugg Vabbè, sì Quattro posti di lavoro Forse è un po' esagerato Però il riciclatore No, il riciclatore Sta funzionando, no? Sì Leaky Visitors Che cosa Che cos'è? Ah Non Non ho idea Di che cosa sia Come faccio a pulire? Oh, ho capito Stanno lavorando Ma Ok, chiaro Tre tutto Filtro atmosferico Come faccio Come faccio You have just Successfully Built your First Garbage Bot A thing That one Tries to Fill With other Things But which Reaches It's Maximum Capacity Much Too Quickly Wait, are we Talking About your Training? Excuse Me Va bene E questi quando partono? Garbage bot modification Che sta succedendo? Forse c'è bisogno di energia? No vabbè, penso di aver fatto tutto quanto Oh mio Dio Ma mi sa che c'è bisogno di molto più di Allora in realtà I robot stanno già partendo, no? Ok, ma questi dovranno essere Portati qua Madonna quanto si Quanto sono lenti però Sono spaventosamente lenti Si può mandare avanti più velocemente? Madonna quanta immondizia c'è qua dentro Aspetta un attimo Si può costruire pure qua dentro questo? No scusa Questo? Devo capire se i robot si Spostano anche qua Si, tecnicamente si No, non ci sono abbastanza Eh, si Devo capire Quanto L'atmosfera fa schifo? Si, l'atmosfera fa schifo Non posso mica metterlo qua dentro io Questo Wow Peggiorata tantissimo National Commander If my counting algorithm isn't wrong It never is You've now built a double digit number of garbage bots I applaud your enthusiasm Commander Va bene, sì, ma i garbage bot Allora, sì, vedi, stanno raccogliendo Della roba Ah, ok, stanno andando qua dentro a raccogliere Però Boh Non capisco Event history Stanze, unità, construction menu Overlays Ah, air quality Vabbè, air quality tutto sommato va bene, dai No, air quality non va bene per niente qua Qua dentro, puzza che è una cosa grossa Sì, è un inizio Però, madonna mia, quanta immondizia Ma come diavolo si fa? E oltretutto, grazie al riciclatore, non c'è niente Cioè, vedi, i robot stanno andando qua Mio Dio, quanto è lungo Ah, construction fuzzer, crate fuzzer e cleaning fuzzer Sono... ah, ci sono i fuzzer diversi, ok Ok, ora che ne ho fatti così tanti Eppure c'è ancora una marea di immondizie È questo che non capisco Vabbè, allora, qua stanno più o meno ripulendo Più o meno Io non capisco se sto facendo bene o no le cose In tutta onestà Perché qua ancora non sto... Facendo niente Telgor Forse perché non c'è arrivato... Forse perché non sono ancora pieni Tipo, scusa, eh Il bot Dov'è il bot corrispondente? Come faccio a trovarlo? Guarda che... Macello indescrivibile Non ti è mai venuto un'idea comunque Facciamo le altre, va Conferma Vai Ora, i... i robottini quelli che costruiscono Dovrebbero essere a disposizione in realtà Quindi... ok Ah, perché qua veramente c'è una coda infinita Non so... se ne esce più Imbottito di spazzatura C'è proprio... una cosa tremenda Qua ancora comunque non è arrivato niente Io non capisco questi robottini Che cosa stanno facendo Ah, Cleaning Fazer Boh Aspetta un attimo Andiamo a fare una cosa Prima di eliminarlo proprio C'è un paio Comunque, allora Spero che alcuni si stiano dirigendo di qua Guarda che macello Guarda che assoluto caos Questo è pieno al 55% Questo è pieno al 94% Non so questi che cosa stanno facendo di preciso Ma non lo so ragazzi Sono un po' in dubbio Boh a me pare che Ci sia bisogno di questi Io ce lo rimetto Cioè a me pare che sia assolutamente fondamentale questa cosa Oh, guarda Questo è pieno al 100% Lo stanno portando Ma c'è un modo per velocizzare il gioco Vi prego No, a quanto pare comunque no O meglio non proprio Guarda che assoluto caos Di disastro Oh, guarda Stiamo producendo energia Finalmente Sì, ma perché i robottini ci mettono così tanto a riempire Ah, il garbage bot Se ne ritorna da solo Dove deve, ok Va bene Siete al lavoro? Sì Quanto pare sì Volume 37% Pare di sì 36% Ok, stanno riciclando È cominciata ad arrivare l'immondizia L'unico problema è che qua C'è qualcosa che non sto capendo Qualcosa che non va Perché io ho fatto un sacco di botte E c'è ancora una marea di immondizia Sembrano lentissimi Boh Forse dovevo fare le cose più vicine Forse ci mettono troppo a muoversi da una parte all'altra Però c'è la La sala piena E qua sono giustamente tutti scontentissimi Che schifo Radiation Boh, vabbè Quello che ho appena visto non so cosa voglia dire Vabbè Qua ragazzi ci mettiamo un'eternità Quindi sapete che vi dico Mi sa che ci salutiamo qui ragazzi Che non sto capendo qualcosa Potrebbe anche essere una cosa calcolata male nella beta Oppure che diavolo ne so Non Non Eh sì va bene L'atmosfera Atmosfera Vabbè sentite Amen Cavoli loro Io sto Guarda che disastro Vabbè Ragazzi Che devo fare Purtroppo è così E niente Noi ci vediamo alla prossima D'accordo? Bene Io vi ringrazio Per Per aver visto questo video Il gioco sembra davvero carino Questa è una beta Avremo un modo Probabilmente di provarlo Fra un pochettino Comunque a me i gestionali piacciono Qua qualcosa è andato storto Probabilmente Quindi Boh Staremo a vedere D'accordo? Direi che per oggi è tutto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Lasciate un bel like A questo video Se vi è piaciuto E qui sotto in descrizione Trovate come sempre Tutti i link ai miei social Tutti i link per supportare il canale Il link alla playlist Con tutti quanti i video Della serie Proviamole Anche il link per acquistare il gioco E se lo fate attraverso questo link Aiutate e supportate moltissimo il canale D'accordo ragazzi? A presto